Arca, lei sa che noi siamo favorevoli a questa mossa di Arca, sa bene che noi ce l'avamo nel programma elettorale, sa bene che sarà una partita molto delicata da gestire soprattutto perché abbiamo visto cosa succede. Noi sicuramente, visto che è un'azienda che sta partendo e avrà un ruolo fondamentale in futuro, non mancheremo di fare controllo e crediamo sia importante che venga riconosciuto questo spazio politico e non solo al Movimento 5 Stelle, anche in Arca perché riteniamo che senza un adeguato controllo sia più facile sbagliare. Mettiamola in questo modo. Grazie.